Finito! Beh, ma come hai fatto? Io non sono neanche a metà. Franci, sono solo tre capitoli. Eh, ho capito, ma 50 pagine! Cosa ne hai fatte? Una si e 29? Ma avrai neuroni rallentati, ascolta me. Prendiamoci una pausa, almeno, non so, ti si rinfrescano un attimo. Che dici? Va bene, prendiamo pausa. Direi che oggi non ho troppo concetto. Scusi un attimo. Ciao, lo stesso che ha preso lei. Vedi, abbiamo già qualcosa in comune. Ma sai, almeno che cosa prende. Certo, lo ordino sempre. Davvero? Adesso ci manca solo che mi dici che sabato sera preferisci andare al cinema, invece che andare a ballare in discoteca. E che poi mi resta anche ripetizioni di spagnolo dentro i cucini. Allora, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. E lo posso fare. Quindi mi vuoi dire che sei la mia nuova gioiella? Beh, perché no? Dai, seriamente tu mi vuoi illudere che esiste un ragazzo del genere? Possiamo capirlo insieme? Mh, perché no? Hai dieci minuti che sei stato al tavolo lì in fondo. Ok. Oh, allora, hai visto? Ho visto che hai sparato un sacco di stronzali. Ce l'ho, ce l'ho. Ma se ha malapena fare un italiano. Eh, vabbè, adesso. Ma poi dillo che non sei stato sincero. Quei uomini siete tutti uguali. Bugiardi cronici. Stupide merdine. Ah, solo noi? Allora, prendi una donna a caso. Lei. Dieci centimetri di tacchi. Le calze per tenere sul sedere. Cusciacqua per tenere sul seno. Rossetto per avere le labbra più carnose. Occhi dipinti. E capelli tinti. Ora scusa, ma mi stanno aspettando. Franci, guarda che dobbiamo ancora finire di studiare. Oh, Lord of mercy, I'm beckoning you, please. I'm feeling drained, I need love.